Poco l'andoloite Ma che idea meravigliosa che vuol dare ora? Vado, baci in mano, dai, dai Vai, 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 attacca Vai Nicolangelo Stai riprendendo il canale, YouTube, YouTube Questo YouTube secco proprio Annaggia a Diage, finite Vai, vai Ti bestemmi, ti bestemmi Vai, vai Ricarica veloce Tu sei scoperto, eh no, no, non vale Non vale, non vale Vabbè, vantaggio di Sergio qua, da lui Nicolangelo guarda che c'hai colpi di riserva lì Ok, c'è colpi di riserva, eh? No, non vale Non vale Non vale C'è colpi di riserva Vantaggio di riserva